Bologna Fiere, 8-11 settembre, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, giunto a quest'anno alla 34esima edizione. Tema portante, la sostenibilità ambientale. 700 espositori distribuiti in 6 paviglioni, 3 macro-aree di riferimento. Food con una panoramica completa dell'agroalimentare bio e naturale. Care beauty con la presenza di aziende produttrici e distributrici biologici, con prodotti naturali e biologici. Green lifestyle con prodotti per uno stile di vita ecologico e sostenibile. Al 34esimo Salone Internazionale di Bologna sono inoltre presenti 19 imprese collettive straniere, oltre 150 buyer provenienti da 30 paesi del mondo e 13 blogger e influencer selezionati come ambasciatori ufficiali del Salone. Tre i motivi di grande interesse per i visitatori. Il primo in particolare riguarda noi marchigiani, perché siamo tra le 5 regioni leader dell'agricoltura biologica e naturale assieme a Sicilia, Calabria, Puglia e Emilia-Romagna. Un quintetto che da solo vale la metà della superficie bio italiana. Le 5 regioni hanno portato a Sama oltre 100 aziende locali pronte a far conoscere le migliori e più originali proposte regionali per la crescita e la diversificazione del comparto agroalimentare. Altro elemento di rilievo del 34esimo Salone è la mostra Sana Novità, allestita nel padiglione 30 di Bologna Fiere, con più di 250 prodotti referenze presentate dalle aziende espositrici, tra cui verranno scelti e premiati i tre prodotti più innovativi di ognuno dei tre settori food, care, beauty, green, lifestyle. Infine Sana 2022 ha messo un focus sulla colazione e l'aperitivo biologici. La colazione e l'aperitivo area mixology sono tra i momenti di consumo e relax più amati e Sana 22 ha deciso di renderli protagonisti nella versione rigorosamente bio, grazie ai prodotti di qualità che tradizionalmente vengono esposti al Salone Internazionale del Biologico e del Naturale.